ciao ragazzi oggi all'interno di questo video voglio farvi vedere come pulirò questo snake in argento 925 con le salviettine con nocer jewelry wipes mi trovo veramente bene con queste salviettine andiamo ad aprire la confezione come vedete salviettina risulta leggermente porosa e praticamente l'unica cosa che dovrò fare è strofinare continuamente sul sullo snake e vedrete alla fine del video il risultato sarà davvero impressionante se ti piace questo video iscriviti al mio canale youtube per nuovi tutorial